Gentili viaggiatori, vi ricordiamo che nei trasporti pubblici è obbligatorio indossare la mascherina. Grazie per la vostra collaborazione. Tenero Centro Commerciale. Autopostale vi dà il benvenuto a bordo e vi augura un piacevole viaggio in direzione di Contra Paese. Tenero Stazione. Tenero Posta. Tenero Chiesa. Tenero Fraccia. Mondacce. Contra Moresio. Contra Allezzotte. Contra Di Sotto. Contra Arronco. Contra Costa. Prossima e ultima fermata Contra Paese. Vi ringraziamo per aver viaggiato con Autopostale. Arrivederci.